Sul Golfo Ligure la pressione è in calo per l'approssimarsi di una perturbazione atlantica. Al suo seguito sulla nostra penisola è atteso l'afflusso di aria più fredda di recente origine polare marittima, condizioni ideali anche per nevicate a bassa quota. In Toscana martedì 17 gennaio cielo coperto in mattinata con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio, nevose in appennino oltre i 1100-1300 metri. Maggior variabilità dal pomeriggio con rovesci sparsi e nevicate in appennino oltre i 900-1100 metri. Venti moderati o forti di libeccio o ponente su costa e arcipelago, mari molto mossi o agitati con mareggiate lungo la costa, temperature minime stazionarie, massime in temporaneo aumento. In provincia cielo nuvoloso con probabili rovesci, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 7, massima 9 gradi. A Castelnuovo di Garfagnana e zone montane minima 5, massima 6 gradi. A Via Regge sul litorale minima 9, massima 11 gradi. Martedì molto nuvoloso con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio.